La Goletta Verde di Lega Ambiente riprende il suo viaggio in mare per monitorare la qualità delle acque italiane. In questi giorni si trova in Puglia, dove il quadro che emerge viene definito abbastanza positivo. Ci aggiorna da Bari il nostro inviato Matteo Parlato, pronto a salpare per nuovi prelievi con l'imbarcazione di Lega Ambiente. Eccoci, siamo a bordo di Goletta Verde, vi presento il nostro ospite Giorgio Zampetti, che è il responsabile scientifico di Lega Ambiente. La Goletta è partita dalla Spezia e è arrivata fino a Quaccaum. Che cosa avete trovato in questo viaggio? Com'è la situazione delle coste? Ci troviamo al giro di Bode, il nostro viaggio annuale. Quello che noi abbiamo trovato è un mar Mediterraneo stupendo, uno dei più importanti patrimoni di biodiversità, ma al tempo stesso abbiamo anche denunciato fino ad ora quelle che sono le minacce principali per questo mare. Al centro la cattiva depurazione, gli scarichi che continuano a finire nelle acque costiere di barnazione, ma anche il problema dei rifiuti marini. Il monitoraggio dei rifiuti galleggianti di Lega Ambiente che svolgiamo ogni anno testimonia come ci sono ancora moltissimi rifiuti che finiscono nell'ambiente marino con gravi conseguenze. Avete trovato dei luoghi incontaminati? Abbiamo trovato dei luoghi bellissimi sicuramente, abbiamo trovato tantissime aree marine protette che sono un'eccellenza internazionale, ma nessun luogo è incontaminato dal problema delle microplastiche ad esempio. Noi abbiamo fatto un monitoraggio sulla presenza di microplastiche anche negli arcipelaghi minori e nessun campione è risultato esente da questo problema. Quali sono le conseguenze per l'ambiente marino dell'entrata di questo nuovo elemento della plastica? I rifiuti in mare sono purtroppo ormai estremamente presenti, si stima addirittura che oggi costituiscono un rapporto in peso tra rifiuti e pesci di 1 a 1. Negli anni se non si interviene addirittura può arrivare un rapporto tra pesci e plastica di 1 a 5 e questa presenza di questo corpo esterno ha dei danni enormi sull'ecosistema marino. Sono prevalentemente sul fondo ma possono trovarsi anche nella colonna d'acqua e galleggianti, possono finire nella catena alimentare con tantissimi problemi anche di impatto sulla fauna che poi si cibano spesso di questi rifiuti scambiandoli per il loro cibo normale e tutto questo può e sta già avendo degli effetti molto molto rilevanti su tutto l'ecosistema. Questa non è una buona notizia, in sintesi come possiamo invertire se possiamo invertire la marcia? Noi sicuramente oggi dobbiamo intervenire per prevenire il problema, i rifiuti marini sono dei rifiuti prevalentemente che vengono da terra ovvero tutto il problema di gestione dei rifiuti, di abbandono, di dispersione dei rifiuti sull'ambiente terrestre e poi si ripercuote e vengono riversati in mare. L'altra cosa che bisogna fare è iniziare a capire dove ci sono concentrazioni molto elevate e come intervenire per iniziare a bonificare il mare e l'ambiente marino e quindi iniziare a rimuovere questi rifiuti. Speriamo perché il panorama non è bellissimo, però mi accorgo in questo momento che la goletta è partita e quindi vi restituiamo la linea prima di uscire dal porta anche perché potrebbe facilmente cadere la linea e ci sentiamo durante il nostro viaggio nella goletta verde da Bari, linea allo studio.